buongiorno buongiorno fagioli benvenuti in un nuovo video oggi ho davvero bisogno di un restyling oggi veramente condizioni pessime 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 allora ho lavato il viso stavo per mettere il siero detto no forse non si pettinano così no forse è il caso di prima fare un po una maschera perché ho mangiato un po di schifezze non so se si nota è uscita una bella punta e quindi adesso andiamo a farci una bella maschera rigenerante e nel frattempo sistemiamo anche questi capelli che non sono sporchi ma non hanno un senso si capisce che non hanno un senso allora intanto vediamo una forma poi spruzziamo un po di latte che fa sempre bene così l'inumidiamo un po e togliamo un po di crespo e doppie punte e facciamo i nostri capelli alla solita maniera ok mi sono anche un po masacrata adesso vado a fare un mix di maschere però perché vado a mettere una maschera all'argilla quindi purificante nel contorno labbra dove ho appunto tutto questo acne con il sottofondo jean che piange no perché è quasi misogiorno perché per me mattino ma è quasi misogiorno e lei ha gli orari per giocare prima di pranzo e prima di cena lei deve giocare perché sennò si adesso andiamo metto la maschera e andiamo a giocare giuro prometto ok contorno labbra voi forse non anche lo vedete ma ho messo la maschera della purificante nel restante parte del viso metto una maschera rassodante direi che ne ho bisogno ovviamente questa non si vede perché è un gel si chiama proprio maschera giallo ed è fantastica perché proprio ti senti la pelle ma posso avere te di sottofondo invece che la radio ne basta pochissima ne basta veramente poca ma fa davvero il suo lavoro e andiamo un po' a rassodare il tutto ok bene benissimo adesso teniamo sulla maschera e andiamo a giocare con la cana ok ho giocato col cane ho lavato la faccia e adesso possiamo procedere con la nostra morning routine tonico oggi lo metto sull'ischetto si strano ma vero comunque ho sentito ditemi se anche voi pensate così per chi soffre di acne di non utilizzare prodotti con additivi perché magari due additivi che ne so quello del tonico e quello del siero scozzano tra di loro e non va bene e peggiora la nostra situazione quindi mi sono fatto una ripromessa con l'anno nuovo cercherò visto che li ho di utilizzare solo prodotti più naturali possibili e va bene contornocchi ragazzi adesso ci dobbiamo mettere a sistemare casa che è un disastro però magari farò un altro video perché sennò poi vengono troppo lunghe e mi dite che io mi perdo non ho messo il siero un siero portato in mano cos'ha questo? beh giusto perché non voglio usare additivi no perché il mio siero l'ho finito anzi lo vado a prendere ecco lo apro con voi così utilizziamo tutto il naturale tutto il naturale questo ne basta vabbè è nuovo adesso troppo perché ne basta un pump me ne è scappato un altro vabbè non mi importa oh che meraviglia prendersi cura veramente di sé i primi la prima mezz'ora del mattino secondo me non ha prezzo come la sera prendersi quei dieci minuti per coccolarsi poi parti che è tutta un'altra cosa allora a questo punto crema viso metterò la crema giorno anche questa pochissimissima e via è domenica? sì potrei fare mille cose sì è una bellissima giornata di sole tra l'altro sono uscita a giocare con gin come vi dicevo e c'è il sole si sta benissimo però visto che stasera devo uscire e stamattina ho dormito non dormivo così tanto non so quanto cioè senza sveglia cioè mi sono alzata proprio così ne approfitto per dare un po' devo cambiare le lenzuole e fare due cosine però a questo punto direi che faccio un altro video ecco qua questa è la mia morning routine e felice io rinata rimpolpata ciao fanciulle ci vediamo al prossimo video ciao